Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Questo è un breve aggiornamento per parlarvi dei prossimi video che arriveranno sul canale. Nelle ultime settimane ci avete consigliato e suggerito di portare alcune serie che vi piacerebbe vedere, come ad esempio Soltan Sanctuary, un altro titolo che ci avete chiesto è Lords of the Fallen, anche Oblivion e altri capitoli di Resident Evil. Sono tutti quanti titoli di qualità che ci piacerebbe portare sul canale, anche se per il momento a causa di impegni personali e del poco tempo libero che abbiamo in questo periodo non riusciremo a preparare a breve. Tra questi titoli che ci avete proposto abbiamo pensato di portare per prima la serie di Soltan Sanctuary. Sarà un walkthrough completo e, visto che tempo fa ci avete chiesto altre guida ai trofei, sarà anche una guida al platino. Questo è un titolo che mi è piaciuto particolarmente e mi farebbe piacere se fosse seguito da tutti voi che ci guardate, perché secondo me è un titolo che merita assolutamente. Per chi non lo conoscesse, è un Souls-like in 2D che personalmente ho trovato molto interessante e divertente da giocare. Questa nuova serie partirà la prossima settimana e vi porteremo anche altri video dedicati alle missioni secondarie di Resident Evil 4, una serie che avete apprezzato molto. Spero gradirete queste nuove serie che arriveranno. Mi raccomando fateci sapere sempre la vostra opinione con un commento e se vi fa piacere condividete i nostri video e lasciate anche un like. Io vi ringrazio per aver seguito questo video e vi do appuntamento con i prossimi che arriveranno sul canale. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Tornantino sinistro per... Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!